Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Coronavirus attivato nelle marche il Gores, gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie Intanto stanno finendo le scorte di mascherine nelle farmacie Polveri sottili confermato il blocco del traffico in tutto il centro di Fano con qualche novità rispetto alla prima domenica Ecco il beato Antonio per la prima volta mostrate le foto del corpo mumificato del frate Francescano morto a Fano nel 1435 e ritrovato durante i lavori di ristrutturazione a Santa Maria Nuova Nel centenario della morte del regista Federico Fellini Fano gli dedica una rassegna alla Rocca Malatestiana con serate a tema per ricordare le opere cinematografiche del grande regista reminese Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione Dunque la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano per il coronavirus non modifica, almeno per il momento, le misure adottate dalla Regione Marche che si era già attrezzata per monitorare ed eventualmente affrontare eventuali rischi di contagio da coronavirus è stato attivato il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie un tavolo tecnico che la Regione Marche ha scelto da tempo di costituire con interfaccia tra operatori sanitari, esperti e protezione civile regionale C'è già stato un primo incontro lunedì scorso per organizzare in pratica il lavoro poi ieri la seconda riunione in cui sono state tracciate le indicazioni operative per affrontare l'allerta sanitaria definendo anche le modalità di presa in carico di potenziali casi sospetti quindi dall'isolamento alla diagnosi, al trattamento e alle misure di sanità pubblica per contenere il contagio In queste ore le indicazioni tecniche regionali vengono diramate a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale e come abbiamo detto il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza per i prossimi sei mesi Allora vediamo i nostri servizi, sono due, li vediamo insieme Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus In Italia sale l'allerta dopo la verifica di due casi certificati di una coppia di turisti cinesi arrivati nella capitale e risultati positivi al virus e ricoverati in isolamento all'ospedale Spallanzani di Roma Intanto non cala la preoccupazione da contagio nonostante la massima cautela che da quanto dichiarato dal Ministro della Salute pone l'Italia a un alto livello di sicurezza Nelle Marche l'allerta relativa al nuovo coronavirus passa per le competenze tecniche del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie che ha tracciato le indicazioni operative per affrontare l'allerta sanitaria definendo la modalità di prese in carico di isolamento diagnosi e trattamento e l'attuazione delle più donne e misure di sanità pubblica per contenere l'infezione ed evitare eventuali ulteriori casi Qualora un cittadino marchigiano, dice il Gores, abbia viaggiato nelle zone a rischio della Cina e dentro i 15 giorni successivi al rientro manifesti sintomi respiratori gravi può riferirsi al proprio medico curante o contattare il 118 oppure chiamare il numero 1500, numero telefonico di pubblica utilità La psicosi sulla diffusione del virus non dà tregua anche alle farmacie dove la richiesta è sempre più alta delle mascherine precauzionali In questo momento iniziamo a fare un pochettino, la richiesta sta aumentando per cui iniziamo a fare un pochettino di difficoltà nel reperire però ancora i nostri grossisti un po' di mascherine ce l'hanno quindi riusciamo a coprire per il momento le esigenze Il coronavirus può essere trasmesso da persona a persona i sintomi più comuni includono febbre, difficoltà respiratorie mentre nei casi più gravi può causare polmonite e insufficienza renale E' buona norma secondo il Ministero dell'Interno lavare frequentemente le mani utilizzando soluzioni alcoliche o acqua evitare contatti ravvicinati coprire con il gomito flesso la bocca e il naso quando si starnutisce evitare contatti con chiunque abbia febbre e con animali in aree mercantili Signora mi scusi, lei la mascherina non l'ha comprata? No, ancora non mi faccio prendere dal panico, più avanti vedremo Sai che sono andate a ruba? Non si trovano più? Lo so, lo so, lo so, lo so Tiriamo avanti, cerchiamo un minimo di ottimismo, meno di razionalità E la mascherina l'ha comprata? La volevo comprare, ma sono finite Sono finite? Sono finite? Ma come mai? Non è un po' esagerata? Mi sa che c'è un po' troppo allarmismo però Abbiamo tanti paura chiaramente, è la prima cosa che si può fare Lei la comprava e se la metteva? Eh, penso sì Lei deve comprare la mascherina? No No, non la compra No, no, io sto in fiducia, sto molto in fiducia In fiducia? Sì, certo Io ho detto... va come va, dai Va come va Sa che sono andate a ruba, non se ne trovano più? Lo so, lo so, ma non mi pongo il problema Sarà quel che Dio vuole No No Perché a questa età non ho più paura di niente Di niente, un po' di precauzione No, perché in Italia non penso che arrivi E poi dei cinesi ce ne sono pochissimi da noi A lei ne fa meno? Sì Vive così, un po' fatalista Sì, 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 tanto di qualcosa bisogna morire, no? Cosa pensi di questa fobia che è venuta di comprare la mascherina per... No Anche no? No Ne fa meno, insomma Sì, sì, sì A Fano, però dobbiamo stare attenti anche alle polveri sottili, le PM10 E domenica la giunta comunale di Fano ha confermato il blocco delle auto Vediamo Domenica prossima dunque su blocco del traffico in centro si replica Confermata l'ordinanza con la quale l'amministrazione limita il traffico veicolare nel perimetro Che solitamente viene interessato dal carnevale Con buona pace degli operatori commerciali che ingoiano così un altro rospo amaro Avendo criticato aspramente il provvedimento che ha desertificato il centro storico lo scorso di difesta E da allora nel comunicarlo la cittadinanza Ieri il primo cittadino ha evocato ciò che negli anni 70 si verificò per l'austerity Ovvero totale assenza di veicoli in tutte le città dove i giovani di allora però si impossessarono festosamente Delle città desertificate trasformandole in un immenso parco giochi Vedremo se l'invito verrà raccolto L'ordinanza in vigore per intanto è la medesima della domenica scorsa Ma come annunciato sono state opportunamente fate delle modifiche Orario è sempre lo stesso dalle 9 alle 19 L'unica modifica è il divieto di transito nella zona di via Don Gentili Per chi viene da Ponte Metauro come domenica scorsa potrà fare tutta la statale Raggiungere la stazione ferroviaria Di lì proseguire poi dritto fino alla rotatoria della Bella Napoli Girare a destra per zona mare Per chi viene da Pesero come domenica scorsa Sarà obbligato a girare a destra l'altezza di via Morganti Ossia la via subito dopo il semaforo del Lido Per chi viene dalla zona diciamo dalle frazioni Quindi da Cucurano dall'interno Potrà proseguire lungo la via Roma Fino arrivare alla rotatoria di Ponte Storto E poi proseguire per via Le Kennedy Chi ha necessità di andare verso Pesero Troverà delle indicazioni alle rotatorie precedenti Che sono quella nuova davanti ai vigili del fuoco E quella della zona seminario Dove lì potrà girare a sinistra verso Pesero L'altro blocco e l'altra limitazione È per chi viene da via Papiria Che diversamente da domenica scorsa Non potrà più arrivare fino in cima a semaforo di Ponte Rosso Ma dovrà girare a destra in via Mameli La via che poi prosegue porta in zona ospedale Contemplate anche con l'ordinanza sindacale numero 4 Alcune deroghe soprattutto che riguardano i residenti Che verranno valutate seduta stante ai varchi Che rimangono in totale 12 Il divieto come dice l'ordinanza è per tutti i veicoli Salvo quelli che sono al servizio di persone con disabilità E che quindi possono transitare Ma rispetto a domenica scorsa C'è un ampliamento Nel senso che è consentito l'uscita Ai soggetti che sono residenti all'interno della zona blu Che hanno necessità di uscire per motivi di lavoro Oppure motivi di necessità e di urgenza In materia di polveri sottili poi la satira si sa che ci vede lungo E il decano dei vignettisti, i fanesi, Giorgio Panaroni Già nel 2002 ci scherzava su Confermando così però la necessità di un approccio più strutturale al problema Domenica scorsa abbiamo avuto la riprova che le PM10 non sono diminuite È servita di evidenziare che in giunta non vanno d'accordo Perché l'assessore Mascari non la voleva riproporre Mentre il sindaco ha deciso di riproporla comunque Ed è evidenziato anche che non hanno un'ottica lungimirante su questo problema Perché il problema non può essere affrontato oggi per domani Ci deve essere una visione lunga Noi come Movimento 5 Stelle Fano abbiamo proposto due mozioni La prima sui cambiamenti climatici dove chiediamo che venga applicato il PAESC Che è stato votato nella scorsa legislatura Il piano d'azione per l'energia sostenibile E non viene attuato Che prevede riforestazione urbana Passaggio all'elettrico spinto Parcheggi scambiatori Portare gente in centro a piedi con navette gratuite In un'altra mozione molto importante dove chiediamo invece Come risolvere il problema di attraversamento del traffico della città Prevedere finalmente una vera circonvallazione Che parta da Torrette Costeggi l'autostrada Si occupi un pochino delle opere compensative Che sono state un'occasione persa dal comune di Fano Per arrivare fino a Pesaro L'ultimo pezzettino da fare insieme a Pesaro Che sarà sicuramente d'accordo Le polveri sottili si combattono Abbattendo appunto i gas dell'autodiscarico Ma anche e soprattutto eliminando i combustibili fossili Quindi bisogna assolutamente trovare dei modi Per convenzioni con le banche, con gli istituti Per promuovere un passaggio dalle caldaie a gasolio A quelle a pompe di calore Insomma ci vuole un piano a lunga visione Non si può risolvere facendo delle domeniche ecologiche Che non servono a niente Sennò ad evidenziare l'incompetenza di questa giunta Su questo argomento Il beato Antonio da Fano Questa mattina in una conferenza stampa Sono state mostrate per la prima volta Le fotografie di questo frate francescano Morto nel 1435 a Fano La momia del frate murata nelle pareti di Santa Maria Nuova Venuta alla luce in seguito ai lavori Nell'area dell'ex convento dei frati minori Che quest'estate ha galvanizzato l'interesse dei fanesi Verso la sconosciuta figura di questo beato fanese Torna a far parlare di sé Dopo alcuni mesi dall'apertura della cassa Che conteneva le mortali spoglie del frate Ed appurata la sua identità attraverso una targa esterna Che ne ricordava nome e data di morte Vengono svelati a conclusione dell'iter giudiziario della vicenda I particolari della sua identificazione Avvenuta alla presenza delle autorità cittadine E degli inquirenti nel cimitero dell'Olivo Questa mattina sono state divulgate le immagini Della mubia rimasta in perfetto stato di conservazione Data l'assenza di umidità nell'intercapedine Vestita del saio Nel quale fu avvolto negli anni 50 A seguito del suo spostamento Dal tabernacono dell'altare laterale di Sant'Antonio Per i lavori di ristrutturazione della chiesa Padre Campana, ministro provinciale dei frati minori Ci spiega che in base ai regolamenti della chiesa cattolica Vigenti già allora Non fu più possibile ricollocarlo in chiesa In quanto il frate è beato Ma solo in seno ai frati E non è stato mai avviato Alcun processo di beatificazione canonico Che permetterebbe sì di venerarne il culto in chiesa L'occasione quindi per riscoprire la figura E l'occasione anche per cominciare a ritornare A venerarlo, a pregarlo E chi lo sa che da questa preghiera, da questa venerazione Non ne venga anche qualche dono Cioè nel senso che si possa avere anche Una beatificazione ufficiale nella chiesa Ora con tutta probabilità Non essendoci in piedi processi di beatificazione A conclusione dei lavori attuali Probabilmente nel gennaio del 2021 La mummia del frate verrà ricollocata In quella che sembra essere la sua naturale collocazione Ovvero dove è stato rinvenuto Tra la chiesa e i locali del convento Con una targa però in chiesa Che ne ricorda la sua presenza Nel frattempo i resti mortali Si trovano all'eremo dei frati di Valeremita Dove viene pregato due volte al giorno dai confratelli In attesa del da farsi Che il beato Antonio però non fosse un frate comune Lo dice il fatto che fosse il confessore di Alfonso d'Aragona E che i fanesi del tempo erano molto devoti alla sua figura Ecco perché beato e dallo stato della mummia Si possono intuire alcune cose Che vivesse certamente in uno stato di benessere E in buon stato di salute E che avesse all'epoca del suo decesso nel 1500 Un'età sicuramente oltre i 40 anni Il comune ora farà di tutto per valorizzare questa importante figura E quindi speriamo che possa essere come dire oggi Messa anche un altro tassello di una storia importante Della città di Fano Che gravita intorno a Santa Maria Nuova Ed ora occupiamoci della fabbrica dei mobili Berloni di Pesaro Che è messa in liquidazione dalla proprietà asiatica E dalla sorte dei suoi 85 dipendenti Il liquidatore Alessandro Meloncelli Ha comunicato che è stata pagata ai lavoratori e ai collaboratori Il conguaglio fiscale è una cospicua quota della tredicesima In questi giorni inoltre 17 lavoratori hanno già trovato collocazione Presso altri datori di lavoro Sono stati messi in sicurezza gli impianti Gli ordini in corso sono stati invece sospesi Fino alla normalizzazione dell'attività operativa E da questa settimana è cessata anche l'attività di produzione Che riprenderà non prima di marzo Con l'ingresso del nuovo investitore Si stanno comunque valutando le eventuali responsabilità Della precedente dirigenza Che ha condotto l'azienda all'attuale situazione di dissesto societario Il 2020 è il centenario della nascita del grande regista Federico Fellini Fano ha pensato il prossimo agosto Durante la prossima estate di dedicargli un'intera rassegna Approcciarsi ad un mostro sacro della cinematografia mondiale Non è mai semplice Ma quando questo gigante si chiama Federico Fellini Le cose si complicano e di parecchio anche Perché il rischio è quello di scivolare nella retorica E nella insapore rappresentazione di una rassegna cinematografica Come accade in altre città italiane per questo centennale Ma Fano ha un asso nella manica che forse in pochi conoscono Fano per il grande maestro era l'alter ego della sua città natale Rimini un po' snaturata e stravolta dal divertimentificio A Fano Fellini ritrovava in piccolo le atmosfere, le pietre, i suoni ed i colori Che gli ricordavano la sua Rimini Quella vera, quella fatta dai pescatori e dalle sdore E non a caso si trovano citazioni di Fano nei suoi film Come nella festa finale della dolce vita con Marcello Mastroianni Per questo affano nel 2020, l'anno dedicato al centennale della sua nascita Con celebrazioni ed eventi non solo a Rimini Ma in tutto il mondo del cinema italiano ed internazionale Nel mese di agosto è stato pensato un progetto Che prenderà vita nella cornice della Rocca Malatestiana Dal 4 al 9, fatto di proiezioni, musica e ospiti del mondo della celluloide Come ci spiega uno dei suoi creatori, lo sceneggiatore Luca Caprara Che assieme ad Annese Giacomoni, ricercatrice culturale, ha firmato il progetto Amava molto certe donne fanesi in un certo posto Che era talmente conclamato all'epoca Da veramente portare tutta la Rimini e soprattutto la giovane Rimini a Fano Calcolate questo, insomma, tra gli anni 20 e il 43-44 Fano nell'immaginario soprattutto dei giovani della zona adriatica E quello che poi è diventata la Rimini a partire dagli anni 50 In questo contesto non poteva mancare, oltre che al supporto del comune di Fano Anche quello della Regione Marche, che sostiene anche in solido l'iniziativa Regione Marche sostiene questo progetto della città di Fano Perché credo che sia una bella opportunità di visibilità nella celebrazione del centenario E credo che possa essere un'opportunità anche per Fano Questa celebrazione, questo ricordo di Fellini Il legame di Fellini che ha con Fano da mettere nel dossier per il 2021 Come Fano città capitale della cultura italiana La compagnia teatrale del San Costanzo Show taglia il traguardo dei 15 anni di attività E mette in scena un nuovo spettacolo nei teatri di tutta la Regione 15 anni di San Costanzo Show Siamo qui oggi a Fano TV per parlare di questi grandissimi 15 anni E non solo della nuova tournée Lino, lo sai che sono passati 15 anni? Lo sai, sono lunghi Da che cosa? Dal primo giorno del San Costanzo Show, di quando si esibì per la prima volta Tu eri molto più basso, ricordo Beh sì, si cresce, si cresce, si cresce sotto vari aspetti in generale Come recitazione, eccetera, eccetera E Jeffrey è cresciuto anche come altezza Questi sono gli effetti anche della televisione Perché poi volendo uno dipende da come fa, dove va In tv ci sono dei trucchi San Costanzo Show è informissima per questa nuova tournée dei sei personaggi in cerca del settimo Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio saremo al Teatro Sperimentale di Pesaro E poi la tournée prosegue ad Ancona l'8 febbraio al Teatro Sperimentale E il 14, il giorno di San Valentino, al Teatro della Concordia di San Costanzo Siamo stati a Senigallia la Fenicia, a Caglia il Teatro Comunale E quindi questo tournée di sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello Abbiamo scritto sei personaggi in cerca del settimo, non li abbiamo scritti noi È un testo che abbiamo rinvenuto di Pirandello e lo mettiamo in scena È proprio una novità per tutto il mondo, per tutti i cittadini del mondo Gli amanti di Pirandello, Pirandello ha lasciato ai posteri questo grande sei personaggi in cerca del settimo Sì, bene, venite a correte numerosi perché è imperdibile Ma poi dopo alla fine della tournée ne faremo un'altra con un altro spettacolo Che è un classico, è un vecchio spettacolo che è la parrucchiera di Siviglia Ma questo servizio dura tutto il TG come dice Bertulli o dura solamente un pezzetto del TG? E comunque, vabbè, volevo dire che quest'anno che è bisestile faremo la parrucchiera Noi ogni anno bisestili facciamo la parrucchiera di Siviglia Bene, vi aspettiamo a teatro questo sabato sera alle 21.15 o domenica pomeriggio alle 17 SanCostanzoShow.com per i biglietti Pirandello come non l'avete mai visto A presto! Ti fa ridere? Per me? Per me? Lui di prossimo c'è Primo Cittadino, come sempre dopo il telegiornale E l'ospite sarà Matteo Ricci, il sindaco di Pesero Come sempre per intervenire vedete i numeri Lo 0721 86 14 33 oppure, e questo è il numero per la diretta Oppure per i messaggi 338 49 68 250 anche utilizzando Whatsapp Tra poco, dopo le previsioni del tempo e la pubblicità, invece torna Pro Tour con delle puntate Che sono una replica di un programma che ha avuto un buon successo di ascolti E dunque questa sera vi riproporremo questo programma settimanalmente Che fa il giro e mostra le eccellenze del territorio L'informazione è su Fano TV e sul canale 17 Torna invece domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa Arrivederci Torna invece domani mattina alle 8 con la Rassegna Stampa